Nel D-Day delle presidenziali statunitensi, il segretario generale della Nato Mark Rutte arriva in visita a Roma. Ad accoglierlo a Palazzo Chigi è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tema principale dell'incontro, il verdetto elettorale americano. Come già accaduto in passato, la scelta degli elettori d'oltreoceano inciderà sul futuro dei 27 paesi dell'Unione Europea, così come sui 32 dell'alleanza transatlantica. Fin dall'insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio 2017, Trump aveva minacciato di non essere più disposto a garantire la difesa degli alleati se i finanziamenti delle nazioni europee non fossero aumentati. Ma erano altri tempi. La Russia non aveva ancora invaso l'Ucraina, scatenando la guerra attualmente in corso. La Nato, di cui gli Stati Uniti sono i maggiori contributori, non era ancora impegnata, al contrario di adesso, nel sostegno finanziario e militare a Kiev. Ora l'eventuale vittoria di The Donald fa temere sia la sospensione degli aiuti all'Ucraina, col conseguente maggior rischio per gli Stati europei di un escalation nel conflitto, sia il rafforzamento del protezionismo a stelle e strisce che minerebbe indistintamente l'economia di Europa e Cina. L'Italia ha sempre fatto la propria parte, condividendo con la Nato l'obiettivo di una pace giusta, assicura Meloni durante l'incontro, in cui i due leader parlano anche dell'esito delle elezioni nella Georgia caucasica e in Moldavia. Ma l'incognita di quelli statunitensi lascerà lo scenario internazionale completamente aperto. Un primo bilancio potrebbe arrivare giovedì e venerdì prossimi nel Consiglio europeo informale che si terrà a Budapest. Proprio l'Ungheria di Viktor Orban, fedele alleato di Putin, detiene la presidenza di turno del Consiglio comunitario. Chiunque vincerà le elezioni presidenziali negli Stati Uniti continuerà a collaborare e a mantenere gli impegni con la Nato. Lavoreremo con Kamala Harris o con Donald Trump. È nell'interesse di tutti, in Europa e in America, aveva detto ieri rutta a Berlino, incontrando il cancelliere Scholz. Per la prima volta in tre anni, la Germania investe il 2% del suo prodotto interno lordo nella difesa e per il segretario generale della Nato, che tra poco sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella, tutti gli alleati dovrebbero fare lo stesso. Come ex primo ministro so che non è sempre facile per i governi stanziare fondi per la difesa nazionale e per gli aiuti all'Ucraina, ma entrambi sono cruciali per la nostra sicurezza collettiva, aveva sottolineato in conferenza della stampa. Grazie. 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 Grazie.